Sono Giorgio Gori, sono il sindaco di Bergamo, oggi in trasferta a Zingonia ad Abilita perché ad Abilita in questo atrio ha trovato posto una mostra importante che è stata promossa alcuni mesi fa da The Blank che ha raccolto opere di artisti internazionali che hanno voluto affidare a delle dichiarazioni, tradotte in inglese statements, la loro visione sulla condizione dell'arte al tempo del Covid. Sono opere di grande impatto che sono state esposte in Palazzo della Ragione e che trovano di nuovo una collocazione qui, in un luogo che ha un suo particolare significato perché questo è un luogo di cura e allora è davvero la cultura, l'arte come strumento per far sentire le persone meglio, per dare loro una speranza. Ognuna di queste opere racconta una capacità di reazione rispetto alla minaccia del virus, una visione positiva di speranza che guarda avanti ed è quello che viene comunicato a chi si trova in condizioni di salute precarie e viene ad essere curato, accudito appunto in un luogo eccellente come questo ospedale. Quindi l'arte che incontra la cura non poteva esserci matrimonio più riuscito, più funzionale e sono felice che siano qua queste opere che sono state pensate inizialmente per Bergamo ma che oggi riescono a trovare un nuovo significato a Zingoni.